E già domani e proprio domani sarà sicuramente il giorno decisivo per capire la direzione in cui andrà la crisi di governo, come questa crisi, quali sbocchi avrà e allora noi naturalmente ne parleremo attraverso le prime pagine dei giornali che sono già arrivate in edicola e che si occupano proprio di questo insieme a tanti altri temi che noi tra l'altro abbiamo trattato durante questa giornata a partire dalla campagna vaccinale e dalla gran parte delle regioni italiane che proprio da domani cambiano nuovamente colore tornando in zona gialla seppur tra le preoccupazioni degli esperti. Un'altra opzione interessante che ancora non abbiamo analizzato con i nostri ospiti è se Conti dicesse basta le elezioni gli consentirebbero di uscire a test alta rispetto a un terzo mandato di compromessi, il suo partito già oggi vale il 16,5% con quei 5 Stelle ed M che non hanno paura del voto e non sono disposti a sacrificarlo a Renzi che ora fa dichiarare a Rosato non divisivo il mess tra le condizioni per cui ha aperto la crisi di governo danneggiando il paese piuttosto che accettare l'umiliazione di un terzo incarico sotto il continuo schiaffo di Renzi Conte potrebbe incassare il largo consenso della base grillina e buona parte del PD che non ha accettato la resa al leader di Italia Viva Allora le urne il suo partito contro quello dei poltronari sarebbe un successo. Ettore secondo te così potrebbe avere delle chance di successo un partito del Premier Ponte? Allora guarda noi abbiamo due innanzitutto i ragazzi del mattino di Foggia, Puglia e Basilicata sono simpaticissimi ci seguiamo su Twitter però non sono per nulla d'accordo con la loro analisi Allora abbiamo due esempi storici, parliamo solo della Seconda Repubblica, di partiti del Premier Lamberto Dini, governatore della Banca d'Italia, fatto presidente del Consiglio si inventò un suo partito, scese in campo, risultato il 2% rinnovamento italiano, non se lo ricorda più nessuno E poi abbiamo Mario Monti, fatto senatore della Repubblica dal presidente Napolitano presidente del Consiglio lui disse che invece di scendere in politica saliva in politica la salita in politica portò il 12% al Senato, l'8% alla Camera e in pancia c'aveva Udc e Flì di Fini, Udc di Casini e Flì di Fini che se non c'aveva manco quelli faceva il 4 e buonanotte ai sonatori e sembrava all'epoca il padrone dell'Italia però Renzi aveva un sostanziale accordo con Zingaretti e Di Maio che poi ha pubblicamente loro riproverato dislealtà, accusandoli dislealtà che sostanzialmente gli avevano detto beh vai avanti tu, poi noi ti veniamo dietro ecco, non si sono presentati all'appuntamento ma lui la mossa l'aveva fatta perché pensava di avere le spalle coperte invece l'hanno lassato solo per ricordare non Alberto Sordi ma Vittorio Gasman e i soliti ignoti e quindi adesso è in una situazione molto difficile perché parliamoci chiaro se accetta il conteterre può mettere tutti i ministri che vuole sono totalmente d'accordo col professore ma ha perso perché tutta Italia gli dice guarda ci hai scassato per un mese per rimettere Conte e se invece e per prenderti due poltrone quello che è un mese che dici che non ti volevi prendere se invece mette il veto finale su Conte e cerca la via stretta e difficile del governissimo Conte ha perso e Renzi ha vinto io non penso che ci saranno le elezioni quindi non penso che un partito del Premier si potrà cimentare molto presto alle elezioni politiche con il voto questa ricostruzione può reggere perché come noi sappiamo Luigi Di Maio ha subito il Conte 2 lui è stato l'architetto del Conte 1 dopo le elezioni del 2018 dell'accordo con Salvini mentre invece il Conte 2 è stato molto più faticoso da digerire per Di Maio e per gli uomini che sono intorno a lui quindi diciamo che Di Maio possa avere un interesse a rimuovere Conte alla presidenza del Consiglio ci può anche stare come ricostruzione tutto questo ritornando al discorso sul partito di Conte dobbiamo considerare che il Conte è stato selezionato da un partito che è il Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle al momento non ha un leader quindi questa speculazione su Di Maio sarebbe ancora più validata se si pensasse a Conte come un serio concorrente di Di Maio per la leadership o per il controllo di 5 Stelle perché a quel punto Renzi per coprirsi al centro Di Maio per tenersi il potere in casa sua potrebbero congiurare diciamo così per sostituire Conte tuttavia in conclusione il sentiero è molto stretto come si diceva perché questo governo è così debole e si tiene diciamo in un mosaico molto precario che quindi andare a spostare qualsiasi tassello e forse questo è il motivo per cui Renzi poi alla fine non è stato seguito in maniera decisa dagli altri leader rischia di generare una grossa confusione considerato anche il momento storico economico, sociale e sanitario che stiamo vivendo a un certo punto si è reso conto forse che il governo era in grande difficoltà sia programmatica che organizzativa che non avrebbe avuto più di tanto da perdere aprendo una crisi e quindi lo ha fatto senza sapere bene però dove si può andare a finire ecco l'unica certezza che non si sarebbe ritornati alle urne insomma ha fatto un po' una scommessa la scommessa di Renzi ovviamente è un azzardo chiaramente per gran parte della popolazione è molto difficile da capire come è mossa anche perché è stata molto improvvisa però è ovvio che in un sistema parlamentare in più frazionato come quello italiano era qualcosa che tutto sommato ci si poteva aspettare soprattutto essendo in presenza di un Parlamento che non vuole andare al voto in nessun modo e di un Quirinale che per molti aspetti avalla questa idea di continuità per arrivare a fine legislatura e domani c'è un finto incontro sui programmi molto finto nel senso che questo incontro sui programmi che i quattro partiti della maggioranza dovrebbero chiudere in mezza giornata quando stilando un vero e proprio contratto di governo sullo scivile umano ricordiamo che per fare il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle i due partiti che poi composero l'alleanza giallo-verde ci misero tre mesi abbondanti e se Mattarella non suonava la campanella stavano ancora lì a scrivere il programma e peraltro avevano anche tecnici di un certo livello che li accompagnavano in questo caso ci sono i campi gruppo di quattro partiti che sono bravissimi ma che non si occupano evidentemente di temi specifici ma di dinamiche parlamentari quindi è una grande finzione politico-istituzionale e in realtà nasconde il non detto il non detto è che per Italia Viva e quindi per Matteo Renzi non c'è ancora il via libera al nome di Conte Presidente del Consiglio per tutti gli altri partiti PD, 5 Stelle, l'EU c'è il totale assoluto sdraiato per Indiac cadaver via libera al nome di Conte Presidente del Consiglio al quale si aggiungono anche i nanetti cioè i responsabili del Senato e i responsabili, volenterosi, costruttori come li vogliamo chiamare della Camera cioè quelli del simpaticissimo Italo-Argentino Merlo e di quella vecchia volpe della politica italiana che è Bruno Tabacci e accompagnati oggi anche dal segretario del PSI Nencini li vediamo sigle che avevamo dimenticato ma che ancora esistono e quindi c'è anche il loro consenso manca solo quello di Italia Viva e di Renzi perché senza Renzi non c'è una maggioranza assoluta al Senato e quindi se noi escludiamo le elezioni e sembra che il Comunicato Rinale le abbia tolte dal piatto quindi non abbia utilizzato nemmeno la minaccia dello scioglimento per eventualmente convincere Renzi a più miti consigli su Conte è evidente che noi ci troviamo in una situazione in cui una forza politica anche piccola come Italia Viva possa molto condizionare il nuovo esecutivo ora su Conte tempo un paio di giorni capiremo come finirà la partita perché se Renzi non cede poi a un certo punto gli altri partiti invece di impiccarsi a un solo nome del Presidente del Consiglio forse inizieranno a meditare su soluzioni alternative e le soluzioni alternative possono essere credo di due tipi o appunto la stessa identica maggioranza con un governo che vede un altro politico o una figura terza alla guida del governo oppure quello che si chiama esecutivo istituzionale in cui si evocano appunto varie figure quindi potremmo dire con una caratteristica più tecnica però per questo tipo di governo forse sarà necessario un allargamento ulteriore della maggioranza si pensa a Forza Italia almeno a pezzi della stessa